La presentazione che ho effettuato oggi, ho illustrato oggi, fa una breve cronistoria dell'evoluzione delle pompe di calore in questi ultimi anni. In realtà noi in un decennio siamo passati dalla pre-storia alla storia e al futuro. Abbiamo aumentato di molto le rese delle macchine e l'intervento di un vettore elettrico efficiente, soprattutto se ben misurato come il nuovo sistema di miturazione Matt Meter, consente di razionare ancora di più i controlli su queste macchine, di poter misurare l'energia rinnovabile prodotta a livello paese e di poter quindi catalogare correttamente anche a livello europeo i nostri dati e dimostrare che l'Italia sta veramente marciando positivamente verso lo sviluppo dell'efficienza e della produzione rinnovabile. Lo Smart Meter consente anche di controllare il flusso di carico da parte dell'utente finale, consente inoltre di controllare, di vedere le possibilità economiche e per la prima volta si rende più elastica la domanda e si pone dalla parte del controllo della domanda, dell'elasticità della domanda e questo consente per la prima volta il nostro paese di un'attenzione energetica e di una presa di coscienza che non abbiamo avuto precedentemente.